La novella in tre quadri di Umberto Giordano sul libretto di Gioacchino Forzano, una registrazione effettuata l'8 agosto 1998 al Festival della Valle d'Itria di Martina Franca. Vi ricordo i personaggi e gli interpreti, il re Nicolà Revenc, Rosalina Patrizia Ciofi, Colombello Francesco Paolo Panni, la moglie del mugnaio Maria Miccoli, il mugnaio Marco Paoluzzi, l'astrologa Monica VI, l'uomo di legge Giacomo Rocchetti, il prete Emil Alekperov, un cerimoniere Son Gouliou, un altro cerimoniere Emil Alekperov. L'orchestra internazionale d'Italia e il coro del Teatro Petruzzelli di Bari sono diretti da Renato Palumbo, il maestro del coro è Elio Orciolo. La verità Grazie a tutti. 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 Ricordati. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.